La Targa Florio La Targa Florio Masetti, Varzi e Borzacchini e a case automobilistiche come la Lancia, la Fiat, la Peugeot, la Bugatti e l'Alfa Romeo che proprio nel 1930 ha ottenuto una bella vittoria in questa corsa con Achille Varzi. Per sentire parlare di Ferrari e di successi dei suoi piloti bisognerà aspettare la fine degli anni 40. Ma saranno gli anni dai 50 ai 70 il periodo d'oro di Maranello in Targa Florio. Il manifesto ufficiale della corsa siciliana ci fa capire che siamo nel 1963, un anno che regalerà un'importante vittoria in Targa Florio al cavallino rampante. Dal 1951 il circuito stradale su cui si svolge la Targa Florio è stato ben definito con i suoi 72 chilometri di lunghezza, le sue 900 curve e i numerosi attraversamenti dei piccoli paesi dell'entroterra dove le insidie si chiamavano animali ed esseri umani, soprattutto bambini che potendo uscire all'improvviso dalle case costituivano un serio pericolo. La corsa siciliana era sempre stata per l'idolo locale Mino Vaccarella di professione preside scolastico da cui l'appellativo preside volante una gara stregata. Più volte si era piazzato fra i primi senza mai vincere. Nel 65 alla Targa Florio, entrata dieci anni prima tra le gare titolate per il Mondiale Costruttori Sport, la Ferrari ha schierato due prototipi 275 P2-3003 per Scarfiotti e per la coppia Bandini-Vaccarella. In testa, dal primo all'ultimo dei dieci giri previsti, la coppia Bandini-Vaccarella si aggiudica la 49esima Targa Florio. Una folla assiepata sulle colline e valutabile in 250.000 persone ha giuito dunque per Vaccarella al primo successo nella classicissima di casa, che avrebbe vinto in altre due occasioni. La vittoria in Targa Florio è stata una di quelle che ha consentito alla Ferrari di aggiudicarsi nel 65 l'ennesimo titolo iridato Marche, l'undicesimo della sua storia. La coppia Vaccarella-Bandini ha sconfitto lo squadrone Porsche, un rivale storico della Ferrari in Targa Florio e nel Mondiale Marche di quegli anni. Ma è giunto il momento di chiudere il capitolo di questa corsa che si è disputata fino al 1977. Lo facciamo con l'ultima vittoria della Ferrari in Sicilia. Nel 1972 la Ferrari ha conquistato l'ultimo titolo costruttori, il tredicesimo con il prototipo 312T. Ebbene, in Targa Florio il cavallino rampante ha schierato l'inebita coppia Arturo Merzavio e Sandro Mumari, che nello stesso anno aveva vinto il rally di Monte Carlo al volante della mitica Lancia Fulvia 1.6. Obiettivo raggiunto, l'ultimo per la Ferrari in questa gara. Grazie a tutti.